Fluidità cognitiva. Ogni qualvolta siamo consci, e forse perfino quando non lo siamo, nel nostro cervello avvengono multiple computazioni che mantengono e aggiornano le risposte correnti ad alcune domande fondamentali. Sta succedendo niente di nuovo? Incombe una minaccia? Sta andando tutto bene? Dovrei forse ridirigere la mia attenzione? Occorre uno sforzo maggiore per eseguire questo compito? Immaginiamo una cabina di pilotaggio con una serie di quadranti indicanti i valori correnti di ciascuna di queste variabili essenziali. Le valutazioni sono fatte in maniera automatica dal sistema 1 e una delle loro funzioni è determinare se occorre uno sforzo ausiliario da parte del sistema 2. Uno dei quadranti misura la fluidità cognitiva e la sua gamma è compresa tra facile e difficile. Facile è un segno che le cose stanno andando bene. Niente minacce, niente notizie importanti, nessun bisogno di ridirigere l'attenzione o mobilitare gli sforzi. Difficile indica che esiste un problema che richiede una maggiore mobilitazione del sistema 2. In questo caso, invece che di fluidità, si può parlare di tensione cognitiva. La tensione cognitiva è influenzata sia dall'attuale livello di sforzo sia dalla presenza di richieste insoddisfatte. A stupire è che un singolo quadrante di fluidità cognitiva sia collegato con un'ampia rete di differenti input e output come mostra la figura 5.1. Dal diagramma si intuisce che una frase che è stata stampata in caratteri chiari o è stata ripetuta o stimolata sarà elaborata in maniera spedita con fluidità cognitiva. Udire qualcuno che parla mentre siamo di buon umore o anche quando stringiamo tra i denti una matita nel senso della lunghezza, in maniera da essere costretti a sorridere, induce fluidità cognitiva. Figura 5.1. Cause e conseguenze della fluidità cognitiva. Esperienza ripetuta, caratteri chiari, idea sottoposta a priming, buon umore, porta a fluidità che porta a sensazione di familiarità, sensazione di verità, sensazione di positività, sensazione di mancanza di sforzo. Le varie cause della fluidità o della tensione hanno effetti intercambiabili. Quando siamo in uno stato di fluidità cognitiva siamo con tutta probabilità di buon umore, ci piace quello che vediamo, crediamo a quello che udiamo, ci fidiamo delle nostre intuizioni e sentiamo che la nostra attuale situazione è confortevolmente familiare. È anche probabile che pensiamo in maniera relativamente informale e superficiale. Quando siamo sotto tensione tendiamo a essere vigilanti e sospettosi, facciamo più fatica a compiere le azioni in cui siamo impegnati, ci sentiamo meno a nostro agio, commettiamo meno errori, ma siamo anche meno intuitivi e meno creativi del solito. Illusioni del ricordo. Il termine illusione ci fa pensare innanzitutto a illusioni ottiche, perché tutti abbiamo familiarità con immagini ingannevoli. Ma la visione non è l'unico regno dell'illusione, anche la memoria, come più in generale il pensiero, è soggetta a illudersi. David Stanbill, Monica Bigotsky, Shana Tirana. Ho appena inventato questi nomi. Se ti imbatterai in uno di essi nei prossimi minuti, probabilmente ti ricorderai dove li hai letti per la prima volta. Saprai, e lo saprai ancora per qualche tempo, che non sono i nomi di personaggi di una qualche fama. Ma supponiamo che tra qualche giorno ti mostrino una lunga lista di nomi, tra cui quelli di alcune celebrità minori e alcuni nomi nuovi, di persone che non hai mai sentito nominare, e ti dicono di verificare tutte le celebrità dell'elenco. Vi è una forte probabilità che tu identifichi David Stanbill con un personaggio noto, anche se non saprai, naturalmente, se tu hai visto il suo nome nel contesto di film, avvenimenti sportivi o cronaca politica. Larry Jacobi. Lo psicologo che per primo dimostrò questa illusione mnemonica nel suo laboratorio, intitolò il suo articolo Becoming Famous Overnight, diventare famosi all'improvviso. Come si verifica questo processo? Comincia col chiederti come fai a sapere se qualcuno è famoso o no. In alcuni casi di personaggi realmente famosi, o di celebrità di un campo che a te interessa, avrai un file mentale con abbondanti informazioni riguardo a un certo personaggio, come Albert Einstein, Bono o Hillary Clinton, ma nessun file su David Stanbill, se di lì a qualche giorno ti imbatterai in quel nome. Coglierai soltanto un senso di familiarità, ti è già capitato di sentire o leggere quel nome. Jacobi espose il problema elegantemente. L'esperienza della familiarità ha una semplice ma potente qualità di déjà vu, che può essere interpretata come il riflesso diretto di un'esperienza precedente. Questa qualità di déjà vu è un'illusione. La verità è che, come hanno dimostrato Jacobi e molti altri dopo di lui, il nome David Stanbill, quando lo si vede, riesce familiare perché lo si vede più chiaramente. Le parole già viste in precedenza diventano più facili da vedere di nuovo. Le si identifica meglio di altre quando ci vengono mostrate per qualche istante o quando sono mascherate da rumore e le si legge più rapidamente, di alcuni centesimi di secondo. In breve, abbiamo maggiore fluidità cognitiva davanti a una parola già vista in precedenza ed è questo senso di fluidità che ci dà un'impressione di familiarità. La figura 5.1 suggerisce come verificare quanto detto. Scegli un termine assolutamente nuovo, rendilo più facile da vedere ed esso tenderà a mostrare proprietà di déjà vu. Di fatto, è più probabile che una parola nuova sia riconosciuta come familiare se abbiamo sensibilizzato a essa il soggetto per via subliminale. Per esempio, avendogli mostrato quella parola per pochi millisecondi poco prima del test o facendola risaltare con un maggior contrasto tra le altre della lista. Il collegamento funziona anche nella direzione opposta. Immaginiamo che ci facciano vedere una lista di termini che sono più o meno sfocati. Alcuni sono molto confusi, altri meno, e il nostro compito è identificare quelli mostrati più chiaramente. Una parola che abbiamo visto di recente ci apparirà più chiara rispetto alle parole sconosciute. Come indica la figura 5.1, i vari modi di indurre fluidità o tensioni cognitive sono intercambiabili. Spesso non sappiamo esattamente che cosa rende le cose cognitivamente facili o difficili. È così che insorge l'illusione di familiarità. Illusioni di verità. New York è una grande città degli Stati Uniti. La luna orbita intorno alla Terra. Un pollo ha quattro zampe. In tutti questi casi abbiamo recuperato in fretta dalla memoria molte informazioni correllate, quasi tutte a conferma o smentita delle asserzioni. Subito dopo aver letto le frasi abbiamo capito che le prime due sono vere, mentre la terza è falsa. Si noti però che la frase un pollo ha tre zampe è più manifestamente falsa di un pollo ha quattro zampe. I nostri meccanismi associativi rallentano il giudizio sulla terza frase perché ci ricordano che molti animali hanno quattro zampe e forse anche che spesso nei supermarkets si vendono pacchetti contenenti quattro cosce di pollo. Il sistema 2 è entrato in funzione per passare i dati al setaccio, chiedendosi magari se l'enunciato riguardante New York non sia troppo facile o quale sia l'esatto significato di orbitare intorno. Pensa all'ultima volta che hai fatto un esame di guida. È vero che occorre una patente speciale per guidare un veicolo che pesa più di tre tonnellate? Forse hai studiato con molto zello e ti ricordi se la risposta appariva sulla pagina di destra o di sinistra del manuale e quale fosse la logica essa sottesa. Non fu certo con quello zello che superai gli esami di guida quando mi trasferì in un nuovo stato. Il mio metodo era di leggere il manuale in fretta una sola volta e di sperare in bene. conoscevo alcune delle risposte grazie alla lunga esperienza al volante ma vi erano domande per le quali non mi veniva in mente nessuna risposta valida e davanti le quali potevo farmi guidare solo dalla fluidità cognitiva. Se la risposta mi riusciva a familiare assumevo avesse buone probabilità di essere corretta. Se appariva nuova o pressoché assurda la scartavo. L'impressione di familiarità è prodotta dal sistema 1 e il sistema 2 fa assegnamento su quell'impressione per il giudizio di verità falsità. La lezione che si trae dalla figura 5.1 è che le illusioni prevedibili si verificano inevitabilmente se un giudizio si basa su un'impressione di fluidità o tensione cognitive. Qualunque cosa renda più facile ai meccanismi associativi di funzionare bene tenderà anche a viziare le credenze con errori sistematici. Un modo sicuro di indurre la gente a credere a cose false è la frequente ripetizione perché la familiarità non si distingue facilmente dalla verità. Le istituzioni autoritarie e i venditori di prodotti sono sempre stati a conoscenza di questo dato ma sono stati gli psicologi a scoprire che non occorre ripetere l'intera enunciazione di un fatto o un'idea per farli apparire veri. I soggetti che erano stati ripetutamente esposti all'espressione la temperatura corporea di un pollo tendevano maggiormente a ritenere vera l'asserzione la temperatura del corpo di un pollo è 62 gradi o qualsiasi altro numero arbitrario. La familiarità di un'espressione in una frase bastava rendere familiare e quindi vera l'intera frase. Se non si riesce a ricordare la fonte di un enunciato e non si ha modo di collegare quest'ultimo a niente di noto non si ha altra scelta che affidarsi al senso di fluidità cognitiva. Come scrivere un messaggio persuasivo. Supponiamo di dover scrivere un messaggio a cui vogliamo che i destinatari credano. Naturalmente il nostro messaggio sarà vero ma questo non basta perché la gente lo creda tale. È del tutto legittimo che chiediamo alla fluidità cognitiva di attivarsi nel nostro interesse e gli studi sulle illusioni di verità formano le ipotesi specifiche che potrebbero aiutarci a raggiungere l'obiettivo. Il principio generale è che qualunque cosa facciamo per ridurre la tensione cognitiva è utile sicché dovremmo prima di tutto rendere la frase massimamente leggibile. Confrontiamo queste due affermazioni. Adolf Hitler è nato nel 1892 in grande. Adolf Hitler è nato nel 1887 in piccolo. Sono entrambe false. Hitler è nato nel 1889 ma dagli esperimenti è risultato che la gente tende a credere di più alla prima quella in grande. Altro consiglio se intendi stampare il tuo messaggio usa carta di qualità superiore per rendere massimo il contrasto tra caratteri e sfondo. Se opti per il colore è più probabile che ti si creda con un testo stampato in rosso o azzurro intenso che con un testo stampato in sfumature incerte di verde, giallo o celeste. Se ci tieni a essere considerato credibile e intelligente non usare un linguaggio complesso se il linguaggio semplice basta ad assolvere il compito. Danny Oppenheimer, mio collega Princeton, ha confutato il mito molto diffuso tra gli studenti universitari secondo il quale i professori preferirebbero di norma un vocabolario molto pomposo. In un articolo intitolato Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity, Problems with Using Long Words Needlessly, conseguenze dell'uso del gergo erudito in circostanze in cui non è necessario, problemi dell'uso di parole inutilmente lunghe, dimostrò che esprimere idee familiari con un linguaggio pretenzioso è considerato un segno di scarsa intelligenza e poca credibilità. Oltre che semplice, cerchiamo di rendere il nostro messaggio memorabile. Traduciamo, se possibile, inversi le nostre idee. Avranno più probabilità di essere considerate vere. I volontari di un esperimento molto citato lessero numerosi aforismi inediti, come I dolori uniscono gli oppositori. Colpi banali abbattono alberi colossali. Una colpa confessata è già mezzo condonata. Altri studenti, invece, lessero alcuni degli stessi aforismi scritti senza rime. I dolori uniscono i nemici. Piccoli colpi abbattono grandi alberi. Una colpa ammessa è già mezzo condonata. Le massime erano giudicate più acute quando erano scritte in rima che quando non lo erano. Infine, se citi una fonte, sceglitene una con un nome facile da pronunciare. Ai volontari di un esperimento fu chiesto di valutare le prospettive di finte aziende turche sulla base dei rapporti di due società di brocheraggio. Per ciascuna azienda, uno dei rapporti era firmato da un nome facilmente pronunciabile, tipo Artan, mentre l'altro era firmato da una società dal nome infelice, tipo Tahut. I rapporti a volte erano contrastanti. Il miglior metodo d'azione sarebbe stato, per gli osservatori, fare la media dei due, ma essi non precedettero così e attribuirono molto più peso al rapporto della società Artan che al rapporto della società Tahut. Non dimentichiamoci che il sistema 2 è pigro e che lo sforzo mentale è avversivo. Chi riceve il nostro messaggio desidera stare il più possibile alla larga da qualunque cosa gli ricordi uno sforzo, compresa una fonte dal nome impronunciabile. Fin qui sono tutti buoni consigli, ma non lasciamoci trascinare dall'entusiasmo. La carta di alta qualità, i colori vividi, le rime e il linguaggio semplice non sono di grande aiuto se il messaggio è del tutto privo di senso o se contraddice fatti che il nostro pubblico sa essere veri. Gli psicologi che conducono questi esperimenti non ritengono le persone stupide o infinitamente sprovvedute. Essi reputano, semmai, che noi tutti viviamo gran parte della nostra vita lasciandoci guidare dalle impressioni del sistema 1, le fonti delle quali spesso non conosciamo. Come facciamo a sapere se un'affermazione è vera? Se è strettamente connessa per coerenza logica o associazione ad altre nostre convinzioni e preferenze, oppure proviene da una fonte che ci piace e di cui ci fidiamo, proveremo un senso di fluidità cognitiva. Il guaio è che potrebbero esserci altre ragioni alla radice della nostra sensazione di fluidità, tra cui la qualità dei caratteri a stampa e il ritmo suadente della scrittura, e non esiste un modo semplice di ricondurre la nostra sensazione a tale fonte. Questo è il messaggio della figura 5.1. Il senso di fluidità o tensione ha cause multiple ed è difficile distinguerle l'una dall'altra, difficile ma non impossibile. Quando è fortemente motivata a farlo, la gente riesce a riconoscere alcuni dei fattori superficiali che producono illusioni di verità. La maggior parte delle volte però il piccolo sistema 2 adotta i suggerimenti del sistema 1 e procede oltre. Tensione e sforzo. La simmetria di molte connessioni associative è stato un tema dominante del dibattito sulla coerenza associativa. Come abbiamo visto in precedenza, i soggetti che sono indotti a sorridere o a cigliarsi, tenendo una matita tra i denti o una palla tra le sopracciglia grottate, tendono a provare le emozioni che di norma esprime chi sorrido e a cigliato. La stessa reciprocità autorafforzante si rinviene negli studi sulla fluidità cognitiva. Da un lato si prova tensione cognitiva quando ci si impegni in faticose operazioni del sistema 2, dall'altro l'esperienza della tensione cognitiva, qualunque ne sia la fonte, tende a mobilitare il sistema 2, inducendo le persone a passare dalla modalità intuitiva e informale di risoluzione dei problemi alla modalità analitica di maggior impegno. Ho spiegato in precedenza che il problema della mazza e della palla era usato per testare la tendenza delle persone a rispondere alle domande con la prima idea che veniva loro in testa, senza verificarne la validità. Il CRT, Cognitive Reflection Test, il test di riflessione cognitiva di Shane Frederick, è costituito dal problema della mazza e della palla e da altri due problemi scelti anch'essi perché inducono un'immediata risposta intuitiva scorretta. Gli altri due problemi che vengono proposti dal CRT sono se 5 macchine in 5 minuti producono 5 arnesi, quanto tempo occorrerà a 100 macchine per produrre 100 arnesi? 100 minuti o 5 minuti? In un lago c'è una macchia di ninfe, ogni giorno la macchia raddoppia di dimensioni, se occorrono 48 giorni perché copra l'intero lago, quanto tempo ci vorrà perché copra metà lago? 24 giorni o 47 giorni? Le risposte corrette a entrambi i problemi sono rispettivamente 5 minuti e 47 giorni. Gli sperimentatori reclutarono 40 studenti di Princeton e li sottoposero al CRT. Metà di loro videro due problemi in caratteri piccoli, grigi e sbiaditi. Il testo era leggibile, ma il carattere induceva tensione cognitiva. I risultati parlano chiaro. Il 90% dei ragazzi che videro il CRT in caratteri normali fece almeno un errore nel test, mentre la percentuale scendeva al 35% quando il carattere era malapena leggibile. Sì, hai capito bene. Il rendimento fu migliore quando il carattere era quasi illegibile. La tensione cognitiva, qualunque ne sia la fonte, mobilita il sistema 2, che è portato a scartare la risposta intuitiva suggerita dal sistema 1. Il piacere della fluidità cognitiva. In un articolo intitolato Mind at Easy puts a smile on the face, la mente rilassata fa sorridere, si descriveva un esperimento nel quale ai volontari venivano mostrati per breve tempo degli oggetti. Gli sperimentatori resero alcuni oggetti più facilmente riconoscibili, mostrando subito prima dell'immagine completa, i loro contorni per così breve tempo che non venivano notati. Le reazioni emotive erano misurate registrando gli impulsi elettrici dei muscoli facciali, i quali indicavano mutamenti di espressione troppo leggeri e brevi per essere rilevati dagli osservatori. Come previsto, i soggetti reagivano con un lieve sorriso e una fronte rilassata quando le foto erano più facili da vedere. Pare sia una caratteristica del sistema 1 che la fluidità cognitiva sia associata a sentimenti positivi. Come previsto, parole facili da pronunciare evocano un atteggiamento favorevole. Tra due aziende che debuttano sul mercato azionario, quella con il nome più pronunciabile ha, durante la prima settimana, un rendimento migliore anche se l'effetto svanisce nel corso del tempo. Le azioni le cui società hanno nomi pronunciabili, come CAR o LUMO, hanno un rendimento migliore di quelle con sigle difficili da pronunciare come PXG o RDO e conservano un lieve vantaggio per un certo periodo di tempo. Da uno studio condotto in Svizzera risulta che gli investitori sono convinti che azioni con nomi facili come EMMI, SCHWISFIRE e COMET si assicurino maggiori rendimenti di quelle con nomi GOFI come GEBERIT o IPSOMED. Come abbiamo visto nella figura 5.1, la ripetizione induce fluidità cognitiva e una confortevole sensazione di familiarità. Il famoso psicologo Robert Zayons dedicò gran parte della sua carriera allo studio del nesso tra la ripetizione di uno stimolo arbitrario e il leggero affetto che la gente alla fine mostrava per quello stimolo. Zayons lo chiamò effetto esposizione. Uno dei miei esperimenti preferiti è quello che fu condotto sui giornali studenteschi dell'Università del Michigan e dell'Università Statale del Michigan. Per alcune settimane sulla prima pagina di quelle due testate apparve un box pubblicitario che conteneva una delle seguenti parole turche, o che suonavano turche. Kadirga, Saricik, Bivoniji, Ni, Nanzoma e Iktiktaf. La frequenza con cui le parole erano ripetute variava, una era dimostrata solo una volta, le altre apparivano in due, 5, 10 o 25 distinte occasioni. I termini che comparivano più spesso in uno dei giornali universitari erano quelli meno frequenti nell'altro. Non veniva data nessuna spiegazione e alle domande dei lettori si rispondeva che l'acquirente della pagina pubblicitaria desiderava mantenere l'anonimato. Quando la misteriosa serie di annunci terminò, i ricercatori inviarono un attenzionare alle comunità universitarie, chiedendo se ciascuna parola desse l'impressione di significare qualcosa di buono o qualcosa di cattivo. I risultati furono spettacolari, le parole che erano ricorse con maggior frequenza venivano valutate molto più favorevolmente di quelle comparse solo una o due volte. La scoperta è stata confermata da molti altri esperimenti nel corso dei quali sono stati usati ideogrammi cinesi, facce e poligoni dalla forma casuale. L'effetto esposizione non dipende dall'esperienza conscia della familiarità, anzi non dipende affatto dalla coscienza. Si verifica anche quando le parole o le immagini ripetute sono mostrate così in fretta che gli osservatori non si rendono nemmeno conto di averle viste. Ugualmente le persone finiscono per preferire i termini o le immagini comparsi più spesso. Come dovrebbe essere ormai chiaro, il sistema 1 reagisce a impressioni di eventi di cui il sistema 2 non è consapevole, anzi l'effetto esposizione è in realtà più forte nel caso degli stimoli che l'individuo non vede mai consciamente. Secondo Zayons, l'effetto della ripetizione sulla preferenza è un dato biologico profondamente importante e si estende a tutti gli animali. Per sopravvivere in un mondo spesso pericoloso, un organismo deve reagire prudentemente a un nuovo stimolo, ritirandosi e provando paura. Le prospettive di sopravvivenza sono scarse per un animale che non guarda alla novità con sospetto. Tuttavia è anche adattivo che la prudenza iniziale receda nel caso lo stimolo non comporti pericoli reali. L'effetto esposizione si instaura, secondo Zayons, perché l'esposizione ripetuta a uno stimolo non è seguita da niente di brutto. Tale stimolo alla fine diventa un segnale di sicurezza e la sicurezza è un bene. Ovviamente il ragionamento non vale solo per gli esseri umani. Per chiarire il concetto, uno dei collaboratori di Zayons espose due serie di uova di gallina fertile a note diverse. Dopo essere nati, i pulcini pigolavano in maniera meno angosciata quando venivano esposti alla nota che avevano udito mentre erano ancora dentro il guscio. Zayons propose un eloquente riassunto del suo programma di ricerca. Le conseguenze dell'esposizione ripetuta giovano all'organismo nelle sue relazioni con l'ambiente circostante sia animato sia inanimato. Gli consentono di distinguere oggetti e habitat che sono sicuri da quelli che non lo sono e rappresentano la base più elementare dell'attaccamento sociale. Perciò costituiscono la base dell'organizzazione e della coesione sociali, principali fonti della stabilità psicologica e sociale. Il nesso tra emozione positiva e fluidità cognitiva nel sistema 1 ha una lunga storia evolutiva. Fluidità, umore e intuizione. Intorno al 1960 un giovane psicologo di nome Sarnoff Mednik ritenne di aver identificato l'essenza della creatività. La sua idea era tanto semplice quanto potente. La creatività è memoria associativa che funziona eccezionalmente bene. Inventò un test, il test di associazione remota, RAT, Remote Association Test, che è ancora usato spesso negli studi sulla creatività. Per fare un esempio facile consideriamo le tre parole seguenti. Cottage, Swiss, svizzero, cake, dolce. Ti viene in mente un termine che sia associato con tutte e tre? Forse penserai che la risposta sia cheese, formaggio. Cottage cheese sono i fiocchi di latte, Swiss cheese è elemental e cheesecake è il noto dolce a base di formaggio. Ora prendiamo queste parole. Dive, tuffo. Light, luce. Rocket, razzo. Il problema si fa molto più difficile, ma ha un'unica risposta corretta che ogni anglofono riconosce, anche se meno del 20% del campione di studenti l'ha trovata entro 15 secondi. La risposta è sky, cielo. Skydive è il paracadutismo acrobatico, skylight è il lucernario e skyrocket è il razzo del fuoco d'artificio. Naturalmente non tutte le terne di parole hanno una soluzione. Per esempio i termini dream, sogno, ball, palla e book, libro, non hanno un termine che li associ e sia universalmente riconosciuto come valido. Negli ultimi anni diverse equip di psicologi tedeschi che hanno studiato il RAT hanno fatto notevoli scoperte sulla fluidità cognitiva. Un'equip ha sollevato due interrogativi. Le persone sentono che una terna di parole ha una soluzione prima di capire quale essa sia? In che modo l'umore influenza il rendimento in questo esempio? Per scoprirlo prima di tutto dissero ad alcuni soggetti di pensare per parecchi minuti a episodi felici della loro vita, in maniera che si mettessero di buon umore, e ad altri di pensare episodi tristi della loro vita, in maniera che si disponessero di cattivo umore. Poi mostrarono a tutti una serie di terne, metà delle quali collegabili con un termine come dive, light, rocket, e metà non collegabili come dream, ball e book, spiegando che dovevano premere il più in fretta possibile il primo di due pulsanti per indicare se intuitivamente giudicavano le terne collegate oppure no. Due secondi, il tempo concesso per la valutazione intuitiva, era troppo limitato perché qualunque soggetto fosse in grado di pensare alla reale soluzione. La prima sorpresa è che le intuizioni della gente sono molto più esatte di quello che sarebbero per puro caso. Lo trovo incredibile. A quanto pare un debolissimo segnale proveniente dai meccanismi associativi genera un senso di fluidità cognitiva molto prima che l'associazione sia effettivamente compiuta. Il ruolo della fluidità cognitiva nel giudizio fu confermato sperimentalmente da un'altra equip tedesca. Le manipolazioni che la crescono, priming, caratteri chiari, precedente esposizione ai termini, aumentano tutte la tendenza a vedere le parole come collegate. Un'altra scoperta notevole è il potente effetto dell'umore su questa performance intuitiva. Gli sperimentatori calcolarono un indice di intuizione per misurare l'accuratezza dell'intuizione stessa e scoprirono che, se prima del test infondevano il buon umore nei soggetti dicendo loro di pensare a cose belle, l'accuratezza era più che doppia. Un risultato ancora più notevole era che i soggetti infelici non riuscivano assolutamente a eseguire il compito intuitivo in maniera accurata. Le loro intuizioni non erano migliori di quelle puramente casuali. L'umore evidentemente influisce sul funzionamento del sistema 1. Quando ci sentiamo a disagio e infelici perdiamo il contatto con la nostra intuizione. Queste scoperte confermano le crescenti prove a favore del fatto che buon umore, intuizione, creatività, credulità e maggiore assegnamento sul sistema 1 vanno insieme. Al polo opposto tristezza, vigilanza, sospetto, metodo analitico e forte impegno mentale vanno a loro volta insieme. Il buon umore allenta il controllo del sistema 2 sul rendimento. Quando è allegra la gente diventa più intuitiva e creativa ma anche meno vigile e più soggetta a errori logici. Ancora una volta, come nell'effetto esposizione, questa connessione ha un senso biologico. Il buon umore è il segnale che le cose stanno andando generalmente bene, che l'ambiente è privo di pericoli e che si può abbassare la guardia. Il cattivo umore indica che le cose non stanno andando bene, che forse incombe una minaccia e che occorre vigilanza. La fluidità cognitiva è sia una causa sia una conseguenza della sensazione di benessere. Il RAT ha altro da dirci riguardo al nesso tra fluidità cognitiva e sentimento positivo. Consideriamo per un attimo queste due terne di parole. Non ne saremmo consapevoli naturalmente, ma la misura dell'attività elettrica dei nostri muscoli facciali mostrerebbe con tutta probabilità un lieve sorriso sul nostro volto nel momento in cui leggessimo la seconda terna, che è coerente e la cui soluzione è sì, mare. Seasal è il sale marino, sirdi la profondità marina, seafoam la schiuma del mare. L'abbozzo di sorriso davanti alla coerenza appare in soggetti ai quali non viene detto che esiste una parola che collega, ma viene mostrata solo una terna verticale di parole e detto di premere la barra spaziatrice dopo averle lette. L'impressione di fluidità cognitiva che insorge davanti a terne coerenti pare sia di per sé piuttosto piacevole. Le prove riguardanti le sensazioni di benessere, la fluidità cognitiva e l'intuizione di coerenza sono, come affermano gli scienziati, correlazionali, ma non necessariamente causali. La fluidità cognitiva e il sorriso si presentano insieme, ma le sensazioni di benessere portano davvero a intuizioni di coerenza? La risposta è sì. La prova è stata fornita da un ingegnoso metodo sperimentale che è diventato sempre più popolare. Ad alcuni volontari fu raccontata una versione falsa e alternativa del senso di benessere che provavano. Fu detto loro che precedenti ricerche avevano dimostrato come la musica che sentivano negli auricolari influenzasse le reazioni emotive degli individui. Questa versione di comodo elimina del tutto l'intuizione di coerenza. La scoperta dimostra che la breve risposta emozionale successiva alla lettura di una terna di parole, piacevole se la terna è coerente, spiacevole se non lo è, è di fatto la base dei giudizi di coerenza. Non vi è niente qui che il sistema 1 non possa fare. In questo caso le variazioni emozionali sono previste e poiché non sorprendono, non sono collegate causalmente con le parole. Si tratta di ricerche psicologiche eccellenti che combinano tecniche sperimentali con i loro risultati, i quali sono insieme affidabili e assolutamente inediti. Negli ultimi decenni abbiamo appreso moltissimo riguardo al funzionamento automatico del sistema 1. Gran parte di quello che sappiamo oggi sarebbe suonato fantascienza 30-40 anni fa. Era inimmaginabile che caratteri a stampa confusi influenzassero il giudizio sulla verità di un'asserzione e migliorassero la performance cognitiva, o che una risposta emozionale alla fluidità cognitiva di una terna di parole mediasse impressioni di coerenza. La psicologia ha fatto molta strada. A proposito di fluidità cognitiva, non liquidiamo il loro piano aziendale solo perché i caratteri a stampano sono poco leggibili. Tendenzialmente dovremmo crederci perché è stato ripetuto così spesso, ma riflettiamoci bene un'altra volta. La familiarità alimenta la preferenza e un effetto esposizione. Oggi sono di ottimo umore e il mio sistema 2 è più debole del solito. Sarà meglio che sia estremamente cauto.